Allora, cominciamo. Oggi riguardo due partite che mi sono state richieste. Allora, iniziamo da questa. Allora, quindi, inizio pare normale, quattro oshi, 4-4-4. Ok, qui Nero aggiunge una mossa, però si vede poco perché è troppo distante dall'angolo, quindi non lo chiude perfettamente. Quindi l'invasione in Sansan è sempre fattibile. E anche in caso Nero aggiungesse una mossa, comunque sarebbe fattibile per l'avversario o vivere dentro se Nero prova a chiudere l'uscita verso l'esterno. O altrimenti si deve limitare a tenere un pezzo e l'altra pietra verrebbe divisa. E altre mosse che chiudono magari questa, però comunque lasciano un po' aperto il lato basso. Quindi comunque poi Nero si troverebbe costretto, se vuole tenere completamente l'angolo, ad aggiungere una mossa. Quindi di solito Nero gioca o questa, in modo che a una terza mossa chiude tutti e 12 punti nell'angolo, circa 12-15 punti nell'angolo, con tre mosse. O a volte anche un... come quella che è stata giocata in partita, però una più bassa, che fa più territorio. E così anche con questa, la terza mossa, riesce a chiudere tutto l'angolo. Così, così, comunque qualunque... anche questa più o meno è difficile per Bianco trovare un buon modo di invadere. Quindi diciamo, questa leggermente è un po' più difficile da usare. Ok, Bianco approccia. All'inizio partita sono equivalenti le chiusure dei... iniziare a chiudere i propri angoli oppure approcciare quegli avversari. O invadere in 3-3, però io... Mmm... sì. Gusto personale preferisco non invadere subito in 3-3 per dare troppa... troppa influenza all'inizio partita. Tipo una cosa così potrebbe diventare un moio problematico poi da invadere, però comunque è giocabile. All'inizio partita di solito preferisco gli approcci semplici. Questa è una possibilità. Comunque si sviluppa normalmente la partita. E in partita Bianco ha invaso verso l'interno, quindi cercando di evitare che Nero costruisca sul lato basso troppo facilmente. A questo punto Nero di solito ha due scelte. Può limitarsi a difendere l'angolo. Poi Bianco può scegliere un qualunque giosechi per continuare. Anche Nero in base a se vuole mantenere il cento oppure no. Oppure se vuole mantenere il lato, di solito si può pensare di fare una qualunque pinza. E l'idea della pinza è che si offre a Bianco di andare a vivere nell'angolo per costruire influenza e continuare a sviluppare questo lato. Quindi se giociamo una pinza semplice e Bianco decide di accettare lo scambio e andare in angolo. Questo è un possibile giosechi che potrebbe venire fuori. Quindi Bianco si è preso l'angolo e Nero continua a sviluppare questa zona. Ed è comunque in questo punto della partita giocabile per entrambi. Bianco potrebbe ovviamente anche decidere di non prendere l'angolo e scappare. Quindi a questo punto Nero prenderebbe punti sul lato destro. Bianco sarebbe relativamente al sicuro perché è scappato verso il centro e avrebbe possibilità di mettere pressione a questa pietra per ridurre le potenzialità di fare punti per Nero da questo lato. L'obiettivo di Bianco non è ovviamente fare tanti punti qui ma semplicemente evitare che li faccia Nero. Quindi gli basta avere un gruppo solido da queste parti. Poi dopo la pinza si svilupperebbe un combattimento e in base a come entrambi i giocatori decidono di portarla avanti. Sarà tutta un'altra partita. Andiamo avanti. Nero ha deciso di non rispondere all'approccio del Bianco sull'angolo. È una mossa fattibile. Diciamo prima del 2016 quando c'è stata l'esplosione delle intelligenze artificiali raramente si vedeva ignorare l'approccio agli angoli. Però dallo studio con le intelligenze artificiali si è visto che anche un doppio approccio sull'angolo è comunque gestibile per Nero senza grossi problemi. Quindi vi faccio vedere l'idea che dopo che Bianco approccia entrambi i lati Nero può scappare fuori. Magari Bianco invade per prendersi i punti in angolo e poi Nero decide da che lato tagliare e iniziare a fare un muro. Quindi l'idea è questa. Cioè Bianco si è preso i punti nell'angolo, ha comunque protetto l'altra pietra che aveva pensato. E comunque Nero ha un gruppo fluttuante però difficile da attaccare quindi abbastanza sicuro. E a un certo punto potrebbe anche essere possibile utilizzarlo per fare influenza altrove. Stessa cosa poi se Nero magari vuole andare dall'altra parte. Sono comunque gestibili quindi ignorare l'approccio all'angolo è fattibilissimo. Ci sono anche altre varianti in cui Nero difende il punto di invasione dell'angolo con l'idea che se Bianco prova a confinarlo all'interno Nero può tagliare e combattere. Di solito questa opzione è buona quando Nero magari ha delle pietre di supporto che lo aiutano nel combattimento che viene fuori. Perché la continuazione naturale è che Nero a un certo punto vibra in angolo, che ha abbastanza spazio. E se ha delle pietre di supporto su uno dei due lati dovrebbe riuscire a mettere in difficoltà uno dei due gruppi di Bianco. Quindi dipende sempre dalla posizione globale della partita. Ok, andiamo avanti. Questa comunque è una buona mossa che è tra le più grandi possibili perché va ad approcciare un angolo aperto. Qui stessa cosa Bianco può semplicemente difendersi, fare tenuki e giocare da un'altra parte. Tutte possibili mosse. In base a quale giosec decide di giocare. Qui Bianco ha deciso di pinzare. È un po' strana come direzione di gioco perché di solito la pinza si fa quando si vuole scedere l'angolo all'avversario, come detto prima, e cercare di sviluppare questa zona. Però essendoci già una pietra nera in D8, sviluppare quella zona non è molto facile. Quindi vediamo come dici, devi continuare nero. Nero, diciamo, tenta di mettere prossimo questa pietra. Una variante sarebbe stata quella di prendere l'angolo e continuare con il giosec che abbiamo visto in basso. Però la differenza è che adesso questo gruppo non ha una buona continuazione perché questa pietra è troppo vicina. E quindi è difficile fare punti in maniera efficiente da queste parti. Per questo la pinza è un po' strana. Quindi da nero avrei consigliato di invadere direttamente e sacrificare questa pietra per prendersi i punti. In partita quindi nero ha fatto questa sorta di attacco verso la pietra bianca, cercando di separare le due pietre avversarie. L'unica cosa è che questa è una forma un po' dubbia. Si usa solo in casi molto particolari in cui si è letto cosa succede. Il problema di questa forma è lo spazio nel mezzo, che se l'avversario ci gioca va a separare le due pietre, che infatti è quello che gioca bianco in partita. E a questo punto nero, se non ha già un piano in mente, gli tocca difendere due pietre contemporaneamente, cosa che è molto difficile da fare. Quindi probabilmente è una mossa che va a vantaggiare l'avversario una volta che va a separare le due pietre. Vediamo come continua la partita. Ok, nero spinge. E poi continua altrove, quindi si può considerare una specie di sacrificio della pietra in C14 per creare un po' di influenza verso il centro. Queste due pietre non sono ancora completamente collegate con gli altri gruppi. Però, diciamo, aggiungendo una mossa a un certo punto della partita, qui o qui, si può dire che tutte le pietre nere siano abbastanza ben collegate e possano essere usate per creare l'influenza. Però nel caso nero non avesse tempo di aggiungerci una mossa, bianco potrebbe a un certo punto decidere di cercare di separare e combattere. Quindi potrebbe diventare un gruppo debole a seconda di come continua la partita. È una cosa a cui il nero deve stare attento. E se queste due pietre diventassero un gruppo debole, vorrebbe dire che avrebbe ceduto parte dei punti sul lato senza aver ottenuto abbastanza in cambio. Questa pietra è ancora utilizzabile tramite un sacrificio simile al giosechi visto prima perché se a un certo punto nero giocasse qui, qui bianco è costretto a decidere cosa fare. Perché se blocca da questo lato, a questo punto nero probabilmente avrebbe modo di vivere in angolo e quindi avrebbe salvato la pietra. O se decide di separare la pietra di nero per evitare che salvi c14, allora a questo punto nero avrebbe modo di comunque rubare l'angolo. Quindi alla fine c14 può essere ancora utilizzata bene come sacrificio. Quindi non è una grossa perdita finché bianco deve ancora aggiungere una pietra in angolo per prendere tutti i punti. Tipo una cosa del genere concretizzerebbe questi punti qui. Però finché bianco non ci perde una zona si può considerare diciamo metà dei punti come quelli di bianco. Quindi andiamo avanti. Quindi nero difende l'approccio che c'è stato prima. Bianco continua nel mettere pressione a nero e cercare di solidificare questo gruppo. Un joseki molto simile che nero chiuda la parte dell'angolo e bianco aggiunga un'estensione sul lato. In partita nero difesa un po' in maniera un po' troppo conservativa perché alla fine rispetto a r4, r3 chiude un po' meglio l'angolo. Fate il confronto fra nero che gioca qui e bianco a modo di vivere molto semplicemente prendendosi l'angolo e quindi ha due occhi direttamente in angolo. Difficilmente nero riuscirà a metterlo sotto pressione più avanti. Invece se nero gioca r3, anche se bianco spinge di 1 comunque non ha ancora due occhi e a un certo punto potrebbe dover raggiungere una mossa per fare spazio per vivere. Altrimenti nero potrebbe attaccarlo. Quindi r4 è un po' troppo conservativa. Qui bianco gioca a p5 cercando di mettere pressione sulle p3 nere immagino. Però una qualità di r4 che comunque mantiene una connessione abbastanza solida con la p3 r7. Quindi p5 non mette veramente a rischio le p3 nere. Quindi potrebbe utilizzare la mossa attuale nero per mettere pressione magari al gruppo. Potrebbe chiudere l'angolo costringendone bianco a dover fare una base. Oppure magari approcciarlo dall'altro lato forzando magari bianco a vivere piccolo e iniziare a fare influenza sul lato basso. E inoltre quando si hanno dei key ma c'è sempre il problema che a un certo punto della partita ci sono dei rischi di taglio. Quindi questa pietra potrebbe diventare un gruppo che dovrà vivere per conto suo. Quindi bisogna sempre essere attenti alle forme e il key ma in particolare c'è sempre il rischio che possa essere tagliato. Quindi sempre occhio a cosa può succedere a un certo punto della partita. Se il bianco volesse fare una forma più solida il salto di 1 è più difficile da tagliare. Che più o meno quando si avvicina ai lati aiuta. Però anche così ovviamente non è una forma perfetta. L'unica forma è veramente solida e il quosumi però ovviamente è più lento. Ok andiamo avanti. Quindi vediamo come risponde nero a questa pressione. Nero si difende. Il bianco continua. Alla fine possiamo vedere che se nero avesse anche giocato altrove magari Cosa può fare bianco dopo p5 per tentare di punire nero per aver ignorato la mossa? Non c'è molto una mossa che possa separare le due pietre. Se bianco per esempio gioca a q6 nero semplicemente si limita a tenere tutto unito. Se prova a saltare di più bianco visto che c'è R4 Alla fine il nero taglia e le pietre bianche vengono catturate Perché non c'è modo per bianco di vincere il combattimento. Se prova a tagliare la scala viene subito rotta con un atari E nero in qualunque momento può mangiare queste due pietre perché hanno solo due libertà. Quindi bianco si ritrova completamente tagliato. Questo perché c'è la pietra di aiuto. Quindi siccome questa non funziona e questa non funziona Q5 lo stesso modo nero si limita a difendersi R5 stessa cosa Le pietre verrebbero separate Quindi alla fine nero non ha bisogno di difendersi Quindi qua nero avrebbe potuto... aveva occasione di, diciamo, giocare una mossa grande altrove Ok, alla fine del combattimento poi bianco prende iniziativa per giocare una mossa sul lato Ora per, diciamo, l'euristica sulle mosse più grandi da giocare inizio partita Di solito le mosse sul lato vengono giocate dopo che si sono chiusi gli angoli Quindi al momento ci sono ancora un po' di mosse da giocare vicino agli angoli Che sarebbero considerate più impattanti rispetto a una mossa sul lato Quindi vi metto... bianco potrebbe giocare A, B e C O anche D Questo gruppo si può considerare abbastanza solido Perché nel caso venisse attaccato può o fare due occhi aggiungendo una pietra nell'angolo Oppure una pietra sul lato Quindi appena nero ne prende una Bianco può giocare l'altra per vivere Quindi può considerarsi un gruppo solido Non ha bisogno di essere rinforzato Un'altra possibilità è anche aggiungere la mossa INE per togliere la possibile invasione che abbiamo visto prima Quindi queste sono le mosse più grandi che potrebbe giocare Bianco E di solito si tende a giocare dove c'è più spazio possibile, dove è più aperto Quindi in questo caso è magari anche mosse che fanno due cose insieme Quindi sia ampliano il territorio proprio che diminuire quello dell'avversario In questo caso A e B ingrandiscono il territorio in angolo E sicuramente sono buone mosse Come anche alla fine aumenta il territorio di Bianco Però ci sono già quattro pietre bianche in quella zona Aggiungerne una quinta sembra un po' che Bianco stia giocando tutte le sue mosse Nella stessa parte del govane Quindi probabilmente non è una mossa più efficiente Conviene giocare dove c'è più... dove ci sono meno pietre E le pietre in D e C sono più o meno allo stesso livello di B ed A Che sono comunque mosse che attaccano un angolo aperto Sarei forse più propenso verso... Che nero ha giocato qui Quindi al posto di Q10 sarei più propenso per giocare F3 Con l'idea che o nero mi cede l'angolo Oppure io cerco di creare una scatola Nel lato basso Quindi magari di cercare di utilizzare le pietre che ho giocato prima Come se fossero un muro Quindi mettiamo che... Nero si difenda E io aggiungo una pietra E qui minaccio di fare questi punti Se il nero non vorrà lasciarmeli A un certo punto dovrà invadere Se avrà un combattimento che potrò sfruttare Per almeno fare una parte di quei punti Ho anche una cosa del genere Probabilmente C5 non è il massimo Per nero Magari facciamo una cosa così Questa è una possibilità O comunque anche se fossero state mosse in angolo Andavano bene Quindi un po' sotto ottimale Q10 Andiamo avanti Ora a questo punto il gruppo di nero Dalla prospettiva di nero Questo gruppo è solido Perché ci sono tante pietre Ci sono 5 pietre E nero ha questo spazio Ho anche la possibilità di chiudere l'angolo con R2 Quindi questo gruppo è assolutamente solido E se non ha gruppi da dover difendere Si deve concentrare sulle mossi grandi Che abbiamo detto prima Quindi valgono le stesse mosse di bianco praticamente Siccome è stata giocata Q10 Invece di giocare A È meglio giocare B Perché c'è più spazio in alto Per destreggiarsi Se il nero dovesse invadere qua Si troverebbe Si troverebbe pinsato E queste due pietre sono abbastanza ben collegate Oppure ancora meglio Magari Bianco potrebbe Giocare R15 E difendere l'angolo Con l'idea che Visto che c'è Q10 Adesso nero non ha una buona estensione Sarebbe costretto a giocare molto Troppo vicino alle sue pietre E quindi Avrebbe perso di efficienza Adesso c'è questa pietra Che in pratica taglia I due gruppi neri Ed è difficile per nero fare tanti punti sul lato Come anche attaccare questa pietra Perché essendo in quarta linea È già molto vicino al centro Quindi è facile per Per bianco scappare in una delle due direzioni E salvarsi Quindi non è Non è facilmente attaccabile Per questo invece Se nero Ha processo dall'altro lato Bianco si difende E può E nero può scegliere un Giocechi sull'angolo Ed è abbastanza tranquillo Perché qui c'è tanto spazio Per gestire la La situazione E si continua con una partita equilibrata Qui nero cerca di separare le due pietre I due gruppi diciamo E bianco può Magari semplicemente Aggiungere una pietra Che va sia a chiudere l'angolo Che aiutare un po' Q10 Ok K16 Più o meno la stessa logica di Di Q10 È una mosso sul lato Quindi sicuramente Aumenta l'influenza di bianco In quella zona Però Sono parecchio distanti le pietre Quindi Non sono completamente connesse Potrebbero essere separate E comunque non va ancora A concretizzare molto i punti Sulle terze linee Quindi nero ancora Ampia scelta su dove invadere Diamanti H3 Ok questo espande un po' il lato Però ancora Più o meno come DD8 È un po' troppo lontana E lascia partare l'invasione Ora visto che nero ha aggiunto Ben due mosse Sui lati Forse probabilmente sarebbe Il momento ideale Per andare subito A rubare l'angolo In modo da rendere Queste due pietre Con i triangoli Poco efficienti Nero Diciamo Gioca G4 Però immaginiamo Che avesse giocato 3-3 Qua nero ha una scelta Dipende da dove vuole chiudere il lato Siccome questo lato È già abbastanza aperto È difficile farci tanti punti Quindi probabilmente conviene A chiudere da questo l'altro E potrebbe Diventare una cosa così Nero cerca di fare I punti in questa zona E mettere anche un po' di pressione A queste A queste 3 pietre A questo gruppo di pietre di bianco Però vedete Comunque Bianco ha aggiunto Ha rubato l'angolo Quindi ha fatto dei punti E E nero Rimane solo con Con questa pietra in D8 Che non è chiarissimo Come utilizzarla Si fa dell'influenza Al centro Però Non è facile fare Tutti questi punti Anche perché Gli serve ancora una mossa Per collegarsi A queste due pietre Quindi Mettiamo che adesso Bianco difenda questo gruppo Anche se nero Connette se il tutto Bianco potrebbe Aggiungere una mossa Per Per ridurre questa zona E' così Probabilmente una cosa un po' più leggera Vabbè Una qualunque mossa Per rinforzare Ma comunque Cosa in questa zona Comunque vedete che i punti di nero Sono abbastanza limitati Se bianco inizia a ridurre Se invece nero Aggiunge Una pietra Da queste parti E vuole iniziare a costruire Magari Bianco inizia A cercare di attaccare Queste pietre Con l'idea che O cerco di mangiarle Comunque Mi aggiungo delle pietre Bianche in questa zona Con cui poi posso ridurre Facilmente La zona Che sta cercando di Costruire nero Che se ci fate caso E' anche L'unico territorio Di nero Perché nero Ha solo Questa zona E questa qui Che sono Pochi punti Mentre Bianco ha praticamente Tutto il resto Del gobon Come influenza Non sono ancora Punti Solidi Però Ha però avvantaggio In quella zona Ok andiamo Un po' più spediti Ok J4 Quando si gioca Prendono delle mosse In quarta linea Poco sopra Mosse di terza linea E una Una riduzione In cui Di solito L'obiettivo E' evitare Che il territorio Accresca Di più Della terza linea Quindi Come dire All'avversario Per me Va bene Che tu Ti Ti prenda Questi punti Ti aiuto anche A prenderli Se mi inizia A rispondere Io Nel mentre Mi Mi rinforzo Il mio gruppo E mi faccio Un po' di Influenza Verso il centro E stiamo Stiamo a posto Così diciamo A questo punto Ci può stare Come scelta Però Non Non è chiaro Se Cioè Bianco potrebbe Perdere l'iniziativa Se magari Nero risponde Una volta Nero difende La pietra Con cui È pressato Quindi magari O giocando K4 O L4 Se difende In qualche maniera Magari Nero a modo Di difendere L'angolo E fare Tutti questi punti Che sono Sono tanti Rispetto a quelli Che ha bianco Quindi sono un po' Troppo solidi Quindi come idea Oppure Per dare iniziative Concedere troppi Punti Solidi A nero Anche questa È una Una direzione Possibile Quindi Nero può chiudere O verso Verso il lato O comunque Cercando di costruire Verso Il lato Il lato Sinistro Bianco Difende E Qui come Come detto Può Tocca a nero Adesso decidere Non deve per forza Continuare a spingere Ma Può prendere Un punto grande Nero Nero giocato O10 Le mossin Questa che è Sesta linea Sesta linea Sono Abbastanza Poco utilizzate Inizio partita Perché di solito Semplicemente L'avversario Ha la possibilità Di rispondere Magari Facciamo caso Che Bianco Voglia Aiutare Q10 Aggiunge Un salto Per collegarsi Il resto Delle sue pietre E non si capisce Nero cosa abbia ottenuto Perché Aggiungendo una pietra Magari adesso Bianco riesce a concretizzare Qualche punto qui E Nero ha semplicemente Una pietra in più Al centro Che È difficile da sviluppare Anche perché Adesso Bianco ha queste due pietre Quindi Che lo aiutano Ad avere influenza Verso il centro Quindi sembra Uno scambio Un po' Buono per bianco E inoltre Come detto prima Qui c'è un salto Del cavallo Che può essere tagliato A un certo punto In caso Nero giochi qui Bianco Potrebbe tagliare E adesso La scala è buona Per Per bianco Perché ha le pietre Qui in j4 E j5 Quindi La scala funziona Per lui E Nero non ha modo Di Di catturare queste pietre Sarà costretto A dover vivere Con i gruppi separati A un certo punto Ovviamente Bianco non è costretto A farlo adesso Gli conviene farlo Quando magari Avrà già aggiunto Delle pietre In questa zona Che lo aiutino Al combattimento Un pensiero in più A cui Nero deve essere attento Ok Bianco aggiunge Una pietra al centro Immagino Per preoccupazione Che diventi Troppo territorio Nero Però Il centro È veramente Difficile Da concretizzare Quindi Finché Come dire La metodologia Da seguire Sempre Prima prendo Gli angoli Quando gli angoli Sono tutti stati Conquistati Diciamo Mi sposto A prendere i lati Quando i lati Sono stati Più o meno Suddivisi Fra i giocatori Mi sposto Verso Il centro Questo in caso In cui Non si generino Con combattimenti vari Ok Ovviamente Ogni combattimento Ha le sue priorità Andiamo avanti Ok C'è stato un po' Di scambi Di mosse Fra i due giocatori Quindi vedete Adesso Il territorio Al centro È diventato Un po' Terreno neutrale Dove non ci sono punti Magari Bianco Potrebbe Farne qualcuno Qui Nero qualcuno Qui Però più o meno Si equivalgono Quindi Non cambia molto La Distribuzione Dei punti Bianco Inizia un po' A chiedere A nero Cosa vuol fare Con la connessione Fra le sue pietre Alla fine Non è Tanto forzato Nero a rispondere Perché Avendo altre pietre Che lo aiutano In questa zona Magari Questo gruppo Anche se viene separato Riesce a fare due occhi Altrove Quindi Ipotizziamo che Bianco tagli Completamente Questi gruppi Questo Vivrà Vivrà Molto facilmente E Questa pietra Non è Molto facile Da attaccare Anche se Magari Nero Giocasse Bianco Giocasse Qui Nero potrebbe Anche decidere Di sacrificarla Che non è Comunque Facile Da attaccare Con una sola Mossa Perché è pieno Di tagli Bisogna stare attenti Al combattimento Che viene fuori In questo momento Sembra Non funzionare Però c'è tanto C'è tanto Cattivo Agi in giro Dovrebbe Leggere tutte queste cose Bianco E starci attento Quindi vorrebbe dire Che praticamente Qualunque mosse In questa zona Bianco dovrà Rispondere Oppure Anche Non volendo Difendere L'angolo Molto banalmente Potrebbe cercare Di connettere Tutte le sue Pietre nero E Fare una specie Di scambio Quindi ci sta A giocare Altrove Per nero Il problema È che Siccome questa pietra In sesta linea Metteva poca pressione Alla pietra bianca Anche dopo che nero Ha aggiunto una mossa Per bianco È facile scappare Anche se Dovesse aggiungere una mossa Giocando in mezzo Bianco sarebbe già fuori E a quel punto Non si capisce Se è bianco Che viene attaccato O sono le pietre nere Che vengono attaccate Andiamo avanti Questo non è chiarissimo Cosa vuole Cosa faccia Questa mossa Perché sembra un po' Che voglia Tenere separati I gruppi neri E un po' Aiutare questa Però darebbe la possibilità Nero Di completamente sigillare Questa pietra Adesso questi diventerebbero Seriamente punti Punti neri E si toglierebbe La debolezza E bianco Non avrebbe Ottenuto niente Con m12 Perché questa mossa Non fa punti Da nessuna parte Pro nero Ha giocato altro È andato a difendere Questo gruppo Più o meno Sembra abbastanza Abbastanza vivo C'è spazio Per fare occhi O scappare altrove Bianco inizia A scappare Con quella pietra E adesso Che il nero Si trova separato Gli tocca un po' Vivere In questa zona Per conto suo Ops Ho sbagliato Chiude Nero si difende Ok Adesso La mossa IC3 Più o meno Rimane sempre Giocabile Per entrambi Per togliere I punti All'avversario O Solidificarli Quindi Sicuramente Una buona mossa Va bene L'unica cosa Probabilmente Siccome nero Ha questo gruppo Che Che non è ancora vivo Potrebbe Bianco Utilizzare un po' Di mosse Per Per metterlo Sotto pressione E cercare Quasi di ucciderlo Probabilmente Vedete Adesso Più o meno Nero Potrebbe anche Riuscire a vivere Da queste parti Però Bianco sta anche Minacciando Di tagliare Queste due pietre Quindi se Nero si connette Nero è stato Completamente Sigillato All'interno In realtà A momento S15 Finisce Per Iniziativa Quindi Non è il momento Giusto per Giocarla Magari A questo punto Bianco Può invadere Intanto Ha finito un po' Di collegarsi Questo gruppo Fuori Ha Rovinato I punti Di nero Perché adesso Può anche Minacciare Di giocare S5 E togliere La base Dell'altro Gruppo E inoltre Ha anche Solidificato Un po' Di punti In alto Dell'attacco Tutto Tutto Mantenendo L'iniziativa Quindi Bianco Invade Nero Difende Queste due pietre Però sono Molto difficili Da uccidere Volendo Nero Potrebbe giocare Questa variante In cui Sacrifica Una pietra E cercare Di Uccidere Col fatto Che ci sono Queste due pietre Che danno Supporto Sarebbe Una possibilità Questo punto Bianco Sarebbe Un po' Costretto A dover Strisciare Per vivere E Nero Avrebbe Un po' Rovinato I punti In questa Zona E avrebbe Comunque Mantenuto I punti Nell'angolo Anche se fa Altrimenti Il joseki Meno Aggressivo Bianco vive Abbastanza Tranquillamente In angolo E non si capisce Bene Queste due pietre Come sfruttarle Attivamente Quello nero Ho giocato Altrove Quindi ho Togliato Quella pietra Ma al momento Questo gruppo È difficile Da uccidere Quindi contando Che è difficile Da uccidere Questa pietra In f11 Non è molto Importante Per bianco Può anche Decidere Di Di sacrificarla E prendere Un punto Grande Giocando qui Lasciare Connettere Nero Si è solidificato Un po' Di punti Sul lato E Magari Continuare Il combattimento Di qua Solidificando L'angolo E Mettendo pressione A nero Con i tagli Nero Può difendersi Oppure Siccome Quest'angolo Alla fine Probabilmente Riuscirà A vivere Magari Uno aggiunge Una mossa Per Vivere Sicuramente Minacciare Di tagliare Le pietre nere Una volta Che Abbastanza Spazio Per vivere Torna A dar fastidio A questo gruppo Andiamo Anti Bianco Taglia Questo è un po' Troppo aggressivo Perché Esatto Con l'Atari Alla fine Nero si riesce Molto bene A connettere Con il resto Quindi alla fine Qui volendo Nero Potrevo tagliare Qui Perché tanto Bianco Non ha modo Di tagliare Dentro Perché si mette In auto Atari Da solo E quindi Mantiene tutto Connesso Stessa cosa Se da Atari Da fuori Semplicemente Nero Connette Quindi la mossa In In J12 Non funziona Dovrebbe prima Connettersi qua Bianco Nero Taglia E poi Non so Magari Nero Sacrifica Le pietre Più o meno Rimane abbastanza Ben collegato Con il resto Che qui O bianco Lo taglia O comunque Nero Attacca In cui Ogni Mossa Ha le sue Conseguenze Quindi Non mi metterò A analizzarlo In maniera Approfondita Altrimenti Non Non finisce Più Kung Alla fine Ne è uscito Abbastanza Bene A questo Punto Bianco Se si Connetta Con questa Pietra Bianco Nasce Bene Perché Adesso Queste Pietre Sono costrette A dover Creare Due Occhi In questa Piccola Zona Non è Facile Farlo E anche se Ci riesce Comunque Buono Per bianco Perché al massimo Farà due Punticini E Come minimo Bianco Riesce a Consolidare Questa Zona E questa Zona Mantenendo L'iniziativa Quindi qua Ha voluto un po' Troppo Bianco Con questa Mossa Immagino Nero Se pari Qui ha avuto Una piccola Svista Purtroppo Questa Tentativa Di rete Diciamo Non funziona Quindi Continuare A spingere Poi Nero Può catturare Tranquillamente Queste Pietre Adesso Connette Adesso Sono miei O giocare Qui per Catturare Queste O Finire A catturare Queste Con la Scala Ipotizziamo Nero salvi Quelle che sono Più grandi Queste pietre Sono Queste pietre Sono Catturate Quindi è sempre Importante Non lasciarsi Tagliare Altrimenti Se diventano Troppi gruppi Da dover Da dover Gestire Quando si attacca Un gruppo È meglio farlo Accerchiandolo Da Da lontano Quindi in questo Modo Bianco Si è Completamente Connesso Ha già Queste pietre Che lo aiutano Nell'angolo Quindi L'unica cosa Nero Può fare È tentare Di Vivere Dentro Magari Ci riesce Magari No Probabilmente Anche No Però Semprimere Iniziare Da fuori Ok Andiamo Avanti Ecco Questa È un po' Troppo Aggressiva Perché Banalmente Qui Nero Taglia E Mangia La Pietra In questi Casi Basta Innanzitutto Bisogna Vedere Qual è Il lato Più Debole Tra L'angolo Le pietre Bianche Dall'altro Lato Si difende Di solito Quello Più Debole In questo Caso Magari Questo E bianco Cerca In tutti i modi Di Di Non far vivere Nero Che al momento Ha un occhio Ha un occhio Solo qui Perché Questo è un occhio Finto In f18 Quindi probabilmente Muore Almeno Secondo Questa sequenza Che se Invece Bianco Difendesse Da questo Lato In cui È più Forte A questo Punto Magari Nero Potrebbe Approfittare Per sfruttare Le debolezze Di questo Gruppo E scappare Con quello Suo Che Adesso Bianco Non è Abbastanza Forte Per gestire Questo Combattimento Ok Andiamo Avanti Quindi Alla fine Qui nero Riesce a Vivere Ok Ok Qui Alla prossima Mossa Qualunque cosa Fa nero Bianco Da atari In a15 E vengono Catturate Quindi qua Nero Doveva un po' Difendersi Anche qui Tricamente Bianco Poteva giocare Questa Che è da atari E mangiavo Questa pietra Rendendolo Molto più Solido Rispetto Alla partita Ok Nero Sta attaccando Quel gruppo Però Alla fine Sembra Già Sembra Un po' Difficile Da Uccidere Che ha Già Un occhio Qui Se aggiunge Una mossa Vive Però c'è ancora Il problema Del taglio N D18 Quindi Diciamo L'attacco Non ha molte Possibilità Di successo Salvo ovviamente Errori Di Bianco Ok Continuo L'attacco Verso Il lato Destro Ok Bianco Fattibile Fattibile fare Qualcosa Che dopo questa Spinta Nero Deve Se vuole Fermare Bianco Deve Bloccarlo Nero Bianco Può tagliare Qui E qui Sono un po' Miai Fra Bianco Che esce Di qua O mangia Questa Pietra Quindi Ipotizziamo Che Non lo so Diciamo Che difenda Questa Pietra E a questo Punto Nero Non ha Modo Di Di Bloccare Qui Bianco Perché Sarebbe Un doppiatari Da questi Due lati Bianco Sarebbe Fuori Quindi Dovrebbe Difendere Qualche Maniera Qua E Bianco Uscito Quindi Vuol dire Che questi Non sono Punti Neri Devo Anche Stare Attento A questo Gruppo Che Non è Vivo Il 100% Quindi Si è Un po' Bruciato Le Possibilità Di Fuga Appunto Perché Questa Forma Di Nero Era Difficile Da Utilizzare Per Attaccare Perché Piena Di Taglie Ok Quindi Alla fine Nero Riesce A Consolidare Questa Zona Possiamo Contarli Tutti i Punti Sicuri Di Nero Che è Tutto Collegato Nero È Vivo In Questa Zona Anche Se C'è Un Pericolo Di Taglio Quindi Prima Poi Dovrebbe Aggiungere Una Mossa Per Salvare Queste Pietre E Questo È Un Punto Importante In Cui È Rimasto Un Po' Appesa La Partita Da Un Po' Che Nessuno Dei Giocatori Ci ha Giocato Ma Teoricamente Se Chi Dei Due Ci gioca Prima Uccide Uccide L'angolo Cioè Se ci gioca Nero Probabilmente Uccide L'angolo Se ci gioca Bianco Vive Anche Montenando L'iniziativa Se ci gioca Nero Probabilmente Probabilmente Giocco Localmente Bianco Ha un occhio Solo Ed è difficile Per bianco Scappare Da qualunque Parte Perché Nero Abbastanza Forte All'esterno C'è Questo taglio Che magari È un po' Problematico Però Nero Può Decidere Di sacrificare Quelle due Pietre Per Mangiare Tutto L'angolo Quindi Localmente Qui Bianco Non è Non è Vivo Probabilmente Così Si Sì La idea È sempre Che c'è Un occhio Solo In angolo Non ha Modo Bianco Di Di fare Due Occhi Ok Andiamo Avanti Qui è importante Mantenere Magari La La parte Chiusa Verso L'esterno Tanto Anche se Bianco Riesce A A Mettere La testa In seconda Linia È difficile Fare due Occhi Perché Ne ha Zero Quindi Farne Due Contemporaneamente È molto Difficile Invece Difendendo R8 Gli si Dà la Possibilità Un po' Di Sfruttare I tagli Che ci Sono Che non Sembra Ancora In realtà Funzionare Perché Ci sono Nero È abbastanza Solido Per riuscire A chiedere Tutto Però È una Forma Un po' Peggiore Ok Adesso Bianco Ha avuto Modo Di giocare Per primo Nel punto Importante Dove Qui Teoricamente Chi ci giocava Prima Chiudeva Tutti Questi Cioè Se Nero Avesse Ucciso L'angolo Avrebbe Chiuso La maggior Parte Di questi Punti Che sono Tantissimi Più O meno Grandi Più Di Questi Qua Che Ha Bianco In questa Zona Contando Che Nero Ha Anche Questo Lato Avrebbe Vinto Se Giocarci Per primo Quindi Vediamo Se Esce a Vivere Ecco La cosa Che consiglio Nero Di stare Attento A questa Forma Perché Raramente Si riesce A Farla Funzionare Bene Lasciandosi I tagli In mezzo Ok Che Nella fine Bianco È riuscito A collegarsi Con Con Le pietre Amiche Ed è Vissuto In angolo Anche Mangiando Queste Due Pietre Quindi Qua L'idea Era Magari Tagliare Da fuori Per impedire La connessione Però Comunque Una volta Che Bianco Riesce A avere La prima Mossa In questa Zona Riesce Sicuramente A fare Due Occhi Vabbè Poi Questa È Di Tsumegov Su come Vivere In angolo Ma non C'è Modo Di Uccidere Per Nero Qualunque Qualunque Mossa In questa Zona Fa Vivere Bianco Cioè Bianco Riesce A Vivere Se Nero Vole Uccidere Gli Tocca Iniziare Da qua Però Probabilmente A quel Punto Riesce A scappare Forse Riesce A scappare Via Sì Probabilmente Se riesce Ad avere Un po' Di Pietra Di Supporto In questa Zona Può tagliare In D7 A quel Punto È un Combattimento In cui Rischia Anche Nero Di Morire Quindi Era importante Riuscire A giocarci Per Primo In Questa Zona Per Bianco Però è Sicuramente Più Facile Semplicemente Stendere E avere Spazio Per vivere In maniera Più Tranquilla Ok andiamo avanti A questo punto Non è facile Catturare Queste Pietre Probabilmente È bianco Che muore Per primo Eh infatti Eh infatti Alla fine Anche Sì qua Bianco Doveva Semplicemente Mangiare E distruggere Questa Zona No In realtà Beh in realtà Funziona Perché Una volta Che Nero Connette Nero Doveva Bianco Doveva Mangiare Prima Queste Due Pietre Le Mangiava In Sente Perché A questo Punto Nero Deve Collegare Qua No Beh in Sente No Che comunque Deve aggiungere La mossa Bianco Ok Quindi Un po' Di Un piccolo Errore A parte Di Bianco Aia Mi ha restituito Il favore Mi ha restituito Il favore Nero Che si è messo I natari Da solo Cioè I natari Da solo Se C'è Il problema Del doppio Atari Qua O nero Semplicemente Andava a mangiare Perché erano Due Libertà Contro due Oppure Semplicemente Connetteva E Ne sono tre Libertà Contro due Quindi comunque Vince Vince Nero Che è successo Qui Ah qua si è fatto Scollegare Quando è successo Quello Lo sono perso Ah si Qua Qua dovevo Difendere Perché È Rasente Sì qua Non Si è fatto Un po' Ingolosire Bianco Nel 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 giocare Questo In effetti Questa è Rasente Per Per il Taglio Quindi Bianco Comunque Qua doveva È molto più Grande Rispetto a rovinare Questa zona Doveva rispondere Quindi c'è stato Un scambio Alla fine Bianco ha guadagnato Questo Nero ha mangiato Questa zona Questa mossa Non serve Perché in realtà Tanto Anche se Bianco Mangia È comunque Un solo Occhio Quindi questo Gruppo Rimane Morto Perciò Nero Può Tranquilmente Andare a Mangiare Può Comunque Fare una Mossa Grande Sul resto Sul resto Del Goban E Questo È abbastanza Grande Lì Andanti No Sì In effetti Questa è stata Problematica Qua si è andata A togliere Una libertà Bianco Che questa Adesso funziona Ora sono Tre libertà Contro due Ah no Ho sbagliato io In effetti Questa No Semplicemente Nero mangia Sì Ho avuto Una svista Anch'io E qui Bianco Non ha modo Di salvare Quelle pietre Semplicemente Non giocando C9 Mantiene Mantiene Il vantaggio Gocando Non so A casa Altrove Anche Nero Dovesse Connettere A questo Punto Bianco Gioca B18 E sono Tre libertà Contro due Quindi Non c'è Problema Però Quando va a giocare C19 Si va a togliere Una libertà No Questo è il salto Della scimmia Molto comune Quando c'è una Una pietra in seconda linea Con lo spazio Per ridurre E il modo corretto Di rispondere L'idea è che non si può separare Perché Bianco è collegato Praticamente E l'unica cosa È limitare I danni Quindi di solito Se è ben collegata Qualtrade Pietra Come in questo caso Nero Gioca in testa Se bianco Spinge Verso Per voler ridurre Territorio A questo punto Nero Può tagliare Perché c'è Questa pietra Di supporto Che impedisce A bianco Di tagliare Quindi queste pietre Bianche Muoiono Quindi bianco È costretto A tornare indietro A questo punto Nero Può bloccare Perché se bianco Taglia Nero Da atari Dall'altro lato E Bianco Risulta tagliato A questo punto È impossibile Per lui Fare due occhi Da questa parte Quindi le pietre Muoiono Quindi vuol dire Che Bianco È costretto A tornare indietro Prima di poter Fare qualunque cosa E a questo punto Nero difende Così ha un po' Limitato i danni Ok Qui adesso C'è una possibilità Di ko Perché Nero può Targente Giocare questa E poi viene fuori Un ko Che bisogna vedere Chi Chi lo vince Però bianco Di solito Se bianco È molto in vantaggio Non gli serve Quindi può limitarsi A Ad accontentarsi Di giocare così Se sta vincendo Quanto è la stima Punteggio Ok Conta malissimo Tutto Stima Punteggio Adesso Bianco Bianco più 13 Non so perché Non gli conta così male Comunque sì È in centro bianco Quindi si può anche limitare A A difendersi E basta Alla fine È andata bene È andata bene È andata bene A bianco Ha ridotto Un po' Ok Quindi ha vinto Bianco 14 Dicina di punti Ok Ok Vabbè Alla fine Mi sembra che ci fosse Abbastanza differenza Di livello Fra i due giocatori Mi consiglio a nero Di stare attento Quando attacca Di non Di non fare Questa Questa forma Perché Gli è costata Un paio di volte Durante questa partita In cui Bianco Semplicemente Ci Ci si tuffa in mezzo E riesce a scappare Quindi non è L'ideale Come forma Per attaccare E il resto Va bene Entrambi Ovviamente Lì A livello di Tsumego Fa Fa bene farli Quindi Quando avete tempo Fate Tsumego Che vi aiutano Con i combattimenti E sapere quando Come si uccide Un gruppo Tipo in questo caso È bene Sapere come Come fare Per uccidere L'idea L'idea è sempre Quella di Se si vuole vivere Vabbè Non è facile In realtà per vivere Se si vuole uccidere Invece Bisogna Ridurre Il più possibile Lo spazio In modo che Ci sia spazio Per un solo occhio E ovviamente Bisogna avere supporto Per Per impedire All'avversario Di scappare Verso l'esterno Altrimenti Non vale la pena Cercare di uccidere Se non Se non si può farlo Ok Direi che Siccome È l'una Finisco qua Parte 1 Poi l'altra partita La faccio In un altro momento In un altro momento Grazie a tutti